buongiorno sono alessandro marconi pips fishing facciamo in questo video una prova e la prova sarebbe questa come leggete facciamo un test su un tipo di operatività abbastanza veloce intraday per cercare di passare un ipotetico test come è quello su ftmo dove propongono due due fasi di test la prima devi raggiungere un 10 per cento e la seconda un 5 per cento però in ogni caso possiamo anche considerare questa prova come un modello di operatività da seguire anche per altre per un trading normale ecco quindi è un'operatività abbastanza veloce questo non è un invito a un investimento qui c'è il disclaimer legge che ve lo pure e andiamo a vedere un pochino cosa abbiamo sui monitor allora mettiamo anche su sul monitor piccolo vediamo qui che sul monitor uno abbiamo il time frame e tutti grafici che prendiamo in considerazione raggruppati e lo ingranghisco schermo hp eccolo qua qui abbiamo la cabella con tutti grafici a sinistra c'è il gruppo allora scansiamo intanto gli alert perché ora non ci servono anzi cancelliamoli proprio e vediamo che sull'area sinistra c'è l'euro euro dollaro euro gbp euro yen euro audi e euro card sotto c'è il gruppo del gas carlina scherlina 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 franco svizzero e scherlina card e poi abbiamo il gruppo del dollaro americano usb jpy usb chf usb card audi usb e nz di usb quindi tutti gli altri cambi sono coperti tutte le valute e poi abbiamo il petrolio vti ai e per finire il gold qui ci sono anche con questo indicatore che ho messo su questo template il valore il time frame va bene che riferimento poi sotto nella finestrina c'è la media dell'atr e poi range odierno questo calcolato per giorno daily con time frame veli quindi abbiamo per esempio sull'euro dollaro dollaro una media di movimento di 60 pips e ora ne ha già fatti oggi 68 quindi vedete che è un pochino più alto che la media se teniamo così lo schema abbiamo un po tutto sotto controllo e vediamo ad esempio che il dollaro che l'euro è forte e forte sale contro contro tutti a parte l'audì che possiamo andarlo a cercare di qua l'audì è più forte che anche dell'euro oltre che naturalmente del dollaro e vediamo che però nell'ultima ora anche l'euro contro l'audì sta un pochino prendendo forza e lo stesso di casi per il card card correlato con il vt ai con il petrolio sta un pochino indebolendo si il card e rinforzandosi l'euro quindi euro card un pochino ha iniziato a salire anzi ha dato anche un segnale quadri dell'indicatore che ho messo e la sterlina ripresa continua la fase di forza e invece il dollaro americano è forte contro lo yen se si diminuisce un pochino ha fatto questo bel ricacciamento che sembrava che volesse rompere la clan line ora si è un po fermato e lo stesso come un usb ghf che aspettateci vado e lo seleziono ok e questo è comunque il dollar americano è un pochino più forte del franco svizzero e vedete che ha cominciato a fare degli swing abbastanza regolari al al rialzo usb card è totalmente a favore del card qui c'è poco da fare eccolo qua in un attimo si vede anche con fine screen piuttosto piccole così ma si vede bene giocando col più e meno dell'ingrandimento la l'andamento e audi forte neozelangese forte dollar petrolio non c'è bisogno di dire arrivata a 63 quindi sta ancora salendo e qui ha fatto un segnalino questa freccia è perché ha raggiunto il bordo superiore però con un andamento così a rialzo attenzione a a cregere direttamente a un ricacciamento ecco e loro che è anche importante è in una fase di di basso quindi qui loro denota un po di forza di di dollaro che sta tirando un pochino più giù loro anche perché probabilmente era salito abbastanza e che quindi ha cominciato a fare degli swing negativi e quindi questo è attualmente al ribasso anche se a questa questo supporto vicino che lo sta aspettando e sembra anche dalla cangela che si sta iniziando a formare nell'ora corrente che voglia diventare ribassista vabbè comunque a parte queste considerazioni generali così abbiamo visto una bella panoramica veloce andiamo sull'altro monitor sul monitor piccolo dove ci sono dove c'è il grafico diciamo quello operativo con time frame 5 minuti qui lasciate perdere che ho le cripto valute le tengo occhio su questo template su questa meta creder qui vabbè sono a livello di time frame giornaliero quindi il bitcoin dopo aver fatto questi enormi massimi ha fatto due giorni di ricracciamento poi tanto per fare una veloce analisi al volo due giorni di ricracciamento quasi fermato ha fatto ieri questa gogi proprio precisa precisa con l'aria di minimo e massimo praticamente a metà e all'altezza proprio della chiusura del giorno prima è salita pochissimo come chiusura quindi praticamente rimasta lì e ora sembra da dalla giornata come partita che comincia a spingere piano piano di nuovo al rialzo il bitcoin mi sa che non lo fermano facilmente non lo fermano facilmente fa magari uno scrappo di una due candele crea al ribasso bruschi però però siamo a 49 3 90 su questa piattaforma per cui ok vediamo una cosa se c'è barraghiscato funziona tutto ok no pezzi pezzi sono aggiornati e niente allora ricordiamo al discorso della operatività che volevo suggerire questo ethereum più o meno fa la stessa cosa sul cinque minuti io per per cercare di fare un'operatività intraday con una prop farm ovvero sia tipo ftmo che impone di non cragare quando ci sono l'uscita di gatti importanti impone di non cragare la notte se non sbaglio nel fine settimana per cui uno dovrebbe fare che le sessioni di che so un'ora al giorno due ore al giorno davanti al pc e secondo me almeno a livello di impostazione delle operazioni sarebbe bene vederle abbastanza direttamente cioè stando stando davanti davanti al pc poi una volta che le operazioni che sono aperte sono messe in sicurezza ovvero sia con lo stop a zero oppure con lo stop in profit allora possiamo anche fare altro e a limite mettere a quel punto un take profit oppure mettere un trailing scopo quello a secondo dei delle abitudini e dei gusti nostri ecco io uso molto il trailing scopo perché mi libera la mente dal pensiero di dove uscire dal mercato quando quando sono in guagagno certe volte metto un take profit su per esempio una resistenza se sono partito da un supporto però certe volte quando operazione già al sicuro magari già un po in guagagno specialmente su su time frame abbastanza brevi come 5 minuti 10 minuti 15 minuti scusa che 10 minuti non lo uso anche perchè anche perché sulla mt4 non c'è o anche su m30 mettere un bel training stop un pochino distante può far correre il prezzo dove vuole andare poi quando il mercato lo decide chi chiude l'operazione e che non c'è il pensiero di scegliere ecco è molto 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 rilassante direi oh quindi torniamo torniamo in pratica a spiegare una cosa io per fare un'operatività di questo genere di solito scelgo scelgo il grafico dove operare sui 5-15 minuti in questo caso anche a livello per fare prima il video l'ho messo a 5 minuti però potete metterlo anche a 15 minuti e scelgo come vedete attualmente sul video la direzione da seguire dal grafico però a un'ora perché se scegliessi a 15 minuti la direzione rischierei di non vedere o un supporto o una resistenza importante invece preferisco utilizzare il time frame a un'ora come questo e poi quando ritengo che sia in una posizione di ripartenza oppure abbia confermato una direzione un trend e penso che possa percorrerlo per un altro po di tempo e di strada allora vado sul template più definito a che sarebbe in questo caso questo dove ho m5 e con un con un super trend doppio mi faccio guidare dal grafico per le entrate e per le uscite praticamente col super trend doppio c'è la comunità che si entra quando ad esempio qua mettiamo questo esempio si entra quando i due i due super trend per esempio qui ho deciso su questo grafico di entrare long dal grafico h1 ho scelto la direzione si entra quando i due super trend sono sotto e poi si può uscire si può uscire non è obbligatorio ma si può uscire quando il primo super trend scatta di nuovo tipicamente qua si entrava su questa candela e si può uscire su questa tra candela perché è andata è andata sopra in questo caso mi ha fatto tre candeline compresse dentro e poi un piccolo falso segnale al ribasso ma noi non l'avremo seguito perché abbiamo scelto di andare solo long perché sul grafico h1 abbiamo visto che era più probabile che il grafico salisse più costo che scendesse per cui si evitano anche tanti falsi segnali tanti stoppini inutili e dannosi e poi sarei 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 rientrato qui no perché è dentro la la gabbia qui siamo contro trend contro il nostro trend e poi sarei rientrato qua dove i due super trend sono andati tutte due sotto e avrei ancora aspettato una chiusura perché ha preso anche forza il grafico e quando il discorso di chiudere l'operazione quando uno dei due super trend quello più veloce mi si gira contro è un'opzione se ad esempio con una salita importante come questa almeno su cinque minuti ma è abbastanza importante una un trader vede che ha già guadagnato a sufficienza e non vuoi rischiare di prendersi una un ricracciamento violento contro può aspettare il primo segnale di 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 passaggio del super trend veloce in questo caso sopra e chiudere l'operazione se invece ad esempio siamo in una situazione del genere con un trend più costo blando allora si può scegliere ora non è questo il caso ma si può scegliere di aspettare che tutte e due tutte e due i super trend vanno sopra ad esempio come era successo in questo caso perché probabilmente tante volte quando c'è un trend che stenga un pochino schiena un pochino a partire prima va il super trend veloce sopra poi arriva sotto cioè ricorda nella situazione ottimale come qua con tutte e due i super trend sotto e riparte il trend se non abbiamo nel frattempo chiuso l'operazione non siamo sempre dentro e possiamo continuare a continuare a guadagnare questo dipende un po da dal dalle regole che uno si si impone ecco comunque questo qui ad esempio era una buona su euro dollaro andiamo da vedere sul grafico sul grafico h1 chiaramente sull'h1 è molto molto rialzista e sinceramente io qui ora non mi sentirei di di entrare perché ha già fatto una salita molto molto brusca molto importante addirittura qui su h1 c'è il segnale di di possibile superamento di una resistenza basata sull'atr e di un rimbalzo e infatti su su m5 le viette che inizia chimicamente una candelina una candelina rossa qui comunque spetta poi a noi cercare sul sul grafico h1 magari con questo template che uso io che mi sono costruito è comodo perché ci sono anche degli alers che molto molto utili ad esempio l'ultimo aler che apparso proprio ora me lo gas usd jpy che il prezzo è entrato su una resistenza andiamo da vedere eccolo qua e vedete che mi avverte che il prezzo è entrato qua quindi qua se io metto anche sui cinque minuti mettiamolo facciamo un po di scambio di monico veloce andiamo su sd jpy ok quindi abbiamo mettiamo il doppio monico sul monico 1 il grafico h1 e sul monico 2 quello operativo m5 e vediamo che sul monitor a 1 sulla h1 abbiamo il prezzo che è in in salita sta testando questo quest'area di resistenza che fare qui vediamo a questo punto sulla sul sul cinque minuti scusate qui sul cinque minuti se il caso se la meglio costa sarebbe in questo caso aspettare un segnale del super trend che mi dà conferma che c'è un rimbalzo attualmente non conviene anche se c'è i due super trend sotto quindi sarebbe una situazione adatta per una una presa al rialzo però sapendo che c'è sull'h1 e lo ve lo vi faccio vedere questo bel livello di resistenza lo trovo un po rischioso e infatti sarebbe addirittura a voler fare uno scalping veloce sarebbe da provare a prenderlo al ribasso ma proprio a livello a livello a livello veloce è un rischio perché il trend chiaramente è totalmente rialzista e anzi il prezzo sta cercando di entrare dentro la resistenza e probabilmente cerca cerca di andare su questi massimi qua sugli ultimi massimi che sono relativi al 16 17 febbraio vedete qui c'è un doppio massimo e quindi probabilmente cerca di andare lì poi una volta arrivato lì non non sappiamo se rimbalza potrebbe essere un grafico interessante perché se ci arriva e poi rimbalza potrebbe iniziare una discesa di questo genere o anche qui è una candela sola lunghissima però anche se facesse una discesa brusca così effettivamente quest'area la sente quindi potrebbe essere utile tenere in vista usgp y anche a breve cinque minuti e vedere in quest'area che ho detto di fine di resistenza su questi quest'area di massimi se c'è già se ha un imbalzo però dovrebbe essere confortato su sul time frame veloce da almeno un super trend che si gira perché altrimenti rischiamo se continua a salire con la spinta che a rischiamo di prendere lo scopo però ecco questo è un modello di operatività veloce che possiamo fare guardando sia il grafico a un'ora che ci dà una situazione un pochino più generale e sia un grafico veloce come i 5 o 15 minuti avevo messo in pausa un attimo ecco invece un grafico che potrebbe essere interessante per prendere operazioni a breve termine su cinque minuti o su 15 minuti euro audi perché vediamo che dal grafico dal grafico a un'ora c'è stata una lunga discesa quindi il trend è short però qua abbiamo una variazione piuttosto piuttosto determinata del prezzo nell'ultima ora che potrebbe presagire alla continuazione di una salita da questi minimi cerchiamo di stringere un po questo grafico e vedere dove siamo vedete si è spinto molto in basso molto in basso per cui potrebbe anche tranquillamente fare un rimbalzo che con il 5 o 15 minuti vediamo che su cinque minuti è partito piuttosto piuttosto forte qui diciamo l'incrocio del del super trend l'ha già fatto l'ha già fatto da un po di tempo e se volessimo cercare di sfruttare questo questo iniziale possibile creando rialzo potremmo ad esempio metterlo su 15 minuti e qui vediamo già che dopo questa piccola spinta si è un pochino fermato su questo livello di ex supporto che probabilmente diventerà almeno momentaneamente una resistenza per cui qui abbiamo il super trend tutti e due sotto quindi positivo potremmo anche iniziare a costruire una posizione a rialzo prendendo almeno una piccola site qua e se scende un pochino su questo livello ad esempio io consiglio anche di un'altra cosa di entrare magari in due o tre o tre volte dividendo il rischio che si vuol correre in due o tre la site relativa al rischio per cui se io entro qui ma mi va un po contro il prezzo io posso rientrare a un prezzo migliore un pochino sotto fermo riscando che complessivamente il rischio deve essere già calcolato prima e dovete averlo bene in testa e possibilmente mettere anche subito lo stop loss quello è è quasi sotto in testo però invece di fare un'entrata sola poterne fare due con un prezzo anche qua migliore se il prezzo torna un po indietro è un bel vantaggio o ok e questo ad esempio vediamo ora non stacco la registrazione riprendo quando il prezzo a fa qualcosa di interessante ma dopo riprendo un attimo la linea perché ho disegnato la prima linea di entrata quella che abbiamo simulato prima poi la seconda linea di entrata l'ho messa su sul la resistenza precedente e poi ho piazzato anche un possibile livello di stop loss che secondo quello che vediamo dal grafico da questa compressione avrebbe messo un pochino sotto ricordiamoci che siamo su time frame m15 quindi le distanze in pip non sono grandi basta regolare la sites con uno strumento che misura la distanza e vi calcola automaticamente quanti microlotti o mettere in base al vostro capitale il gioco è fatto e i due scop loss complessivamente dovrebbero essere uguali a quello che avete preventivamente dichiarato a voi stessi di poter perdere in questa operazione ok prezzo sta andando verso la possibile entrata anche se non è realmente a mercato questa operazione però seguiamola come se fosse veramente vediamo un pochino poi lo sviluppo intanto rimetto in pausa e mi ricollego quando succede qualcosa di rilevante a dopo rieccomi allora è successo che il prezzo è sceso mi avrebbe colpito la seconda entrata a le entrate dopo la prima diretta in questo caso dove essere un buy un buy limit per perché è il buy scop è nella direzione del trend che si vuole cavalcare ovvero sia se l'entrata prima era qua diretta e poi volevamo farla un'altra quando eravamo già in guagagno andava messa qua e allora questo era un buy scop se invece compiamo che il trend cioè il prezzo possa tornare un po indietro però poi risalire come in questo caso sarebbe stato di tipo buy limit l'entrata questa dove essere una buy limit quando scendeva priva l'operazione però in direzione buy ora dobbiamo aspettare se il prezzo ritorna verso l'alto e ho aperto apposta il navigatore perché c'è un indicatore black even line che si trova sul market e è gratuito che quando si fa più di un'entrata è comodo metterlo sul grafico vedete qui c'è solamente da scegliere il colore non c'è altro da scegliere a parte la larghezza della riga comunque questo qui indica indica il livello di prezzo quando ci sono più di un'operazione che fa gas parti acque fra il guagagnare e il perdere quindi è un indicatore gratuito che è sempre bene avere a disposizione sulla mt4 ora comunque fermo di nuovo la registrazione la riprendo quando quando succede qualcosa io mi auguro che il prezzo risalga e altrimenti se scende fino allo stop loss chiudiamo tutte e due le operazioni a dopo ori eccomi è passato un paio d'ore dall'ultima volta che mi sono collegato e è successo un po quello che mi aspettavo ovvero sia il prezzo è sceso a prendere la seconda entrata mi sembra l'avevo già detto prima però poi siccome l'analisi su aspettate si va sull'artomonitor l'analisi su su h1 era era corretta ovvero sia una correzione da questi minimi qua conforme anche con la estrema forza dell'euro che bisogna sempre guardare le altri gli altri cambi e gli altri cross non solo uno per vedere se c'è un po di corrispondenza di correlazione no quindi anche sull'orario vedete che può po di cangelona sull'orario con il template che è presente c'è anche il doppio segnale di rimbalzo da doppio minimo in più il cambio di colore di questo indicatore che non è un super grande una media particolare comunque torniamo su sul monitor a 15 minuti e vediamo che ora possiamo tranquillamente intanto mettere lo stop loss di tutte e due le operazioni sopra qui ognuno può gestire un pochino meglio lo stop loss secondo anche la propria emotività e la propria propensione al rischio di sicuro c'è che questa la seconda operazione la seconda entrata che ormai non è più possibile ma è certa la seconda entrata sta guadagnando questo pezzo di scraga qua mentre la prima sta guadagnando solo questa però mettendo lo stop loss qua abbiamo già un po di guadagno e diciamo che se mettiamo qua cucchi e guadagno e scop loss non perdiamo più e ora ci possiamo anche concentrare sul su quanto profitto possiamo possiamo riuscire a ottenere e qui ognuno può fare le proprie considerazioni ovvero sia mettere ad esempio un classico target qui plus un target qua vedete buon livello ci c'è questi massimi qui c'è l'area di di supporto che diventa resistenza per cui a prima a prima visca un buon target altrimenti uno può anche può anche mettere un trailing stop che parta più o meno da dove ora il prezzo ricordo che siamo su m15 distante questi pip che ora li misuro ma articolo proprio di esempio e non è che voglio ora fare fare considerazioni troppo precise anche perché questo è un video senza le operazioni effettivamente a mercato è dimostrativo però se volessimo calcolare da dove ora il prezzo a l'entrata sono 17 pip quindi un trailing scop di 15 pip ad esempio 10 to mettiamo 10 pip se lo slancio rialzisca è confermato e prosegue sarebbe secondo me un buon compromesso per cercare di sfruttare questo movimento e magari lasciando 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 la linea di riferimento su questi su questi massimi per vedere se arriva qua come comportarci se ci arriva se ci arriva piano piano oppure se arriva poi di slancio e potrebbe anche andare oltre quelle sono considerazioni di un di un secondo momento lo scopo di questo video è di far cercare entrato e buone e andare in profitto ovvero sia non perdere soldi una volta che siamo sicuri che non può che non perdiamo più soldi su una operazione la gestione del profitto la lascio a voi e niente questo era un esempio io ho finito ce ne sarebbe da fare tanti altri però il metodo ve l'ho un po fatto vedere quello che uso io e diciamo che lo uso anche con buon successo vi do appuntamento al prossimo video e vi invito a visitare il mio sito www.pipsf.webly.com dove ci sono anche degli strumenti di money management che vi aiutano a gestire il rischio in modo in modo piuttosto preciso oltre ai template che come quello che vi ho fatto vedere vi rifaccio vedere come ad esempio a questo template e parecchi altri che vi possono aiutare a fare un trading molto più rilassato e consapevole vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao da alessandro pips fishing